Non essenziale il loro settore, per questo sacrificabile. Quasi che il virus qui si diffonda molto più che altrove. Non ci stanno i gestori degli impianti sportivi, chiusi ormai da quasi un anno, da quando ciò è scoppiata la pandemia e dunque l'emergenza sanitaria. Lo sport in contatto, sono convinti, non crea gli assembramenti che si verificano nei supermercati o nel settore dei trasporti. Nei pochi mesi in cui sono rimasti aperti non si sono registrati contagi. I ristori sono arrivati, dice Accorato il presidente della Lega Imprese Sportive della Puglia, ma questo non basta. I ristori finora ricevuti riguardano all'incirca dal 7 al 10 per cento. Chiaramente sono insoddisfacenti per tutte le spese che sopportiamo, dai fitti, dalle imposte, che ha i mutui. Quindi ci auspichiamo che vengano dati sulla fatturazione, su quanto fatturato durante l'anno. Quali sono le vostre richieste? Le richieste sono tante. Prima di tutto riguardano i ristori che devono essere calcolati sulle fatturazioni e inoltre lo scivolamento anche delle ottamazioni, imposte in alcuni casi cancellate o quantomeno rateizzate. Poi bonus wellness, utenze che devono essere allargate, soprattutto di quelle voci inutili.